tutto è pronto aspettiamo che entrano al cannape all'ordine di Renazzo Pircolotti tutto pronto il cannape, cannape a cigno, cannape più grosso, dobbiamo entrare salvo vicino con Zenis accanto a lui assalto Vincenzo Turco di seguito un amore con Dino Fesso è la volta di Jonathan Bartoletti con Ciccio e la Clodia scusate quindi Unidos Andrea Coghe, Antuosco Elias Mannucci di Rincruzza eccolo vedete i cavalli ritti, i cannape, un po' li ho montinati solamente per aggiustarsi perché al primo posto c'è Zenis assalto con il Turco, questo cavallo che viene da Pozzo Maggiore, dai miei amici di Pozzo Maggiore veramente per il primo posto è un amore, assalto al terzo ora dovrebbe essere secondo, al primo posto c'è Dino Fesse un amore fa uscire assalto eccoli e va via proprio Dino Fesse con un amore che tra lui e Mannucci quindi poi Jonathan Bartoletti con Circe da Clodia e Dino di fuori, un amore, fanno i bischeri vabbè questi sono dei genitori soccorsi, loro lo sanno, sono due esperti guarda di sé come si mettono a picca bene, questo è un amore, tale esperto questa Circe da Clodia, avanti, sta provando Zenis vediamo andare verso l'Ulpa in discesa con andatura buona quindi ha rallentato Bartoletti lo allunga ora su per la salita questa Circe da Clodia dietro a lui c'è, riprendiamo all'uscita Zenis di seguito di seguito vi do la Ulpa in salita Mannucci, questo passo è tutta la subiettita verde Unidos con Koghe stanno andando piano verso l'Ulpa c'è ancora Zenis sta facendo Ulpa in salita lo sta riprendendo Giulio ora, eccolo questo giacchettino blu con salvo vicino gli altri praticamente hanno già fermato si sono messi a scherzare questo signore va sotto in operese Bartoletti bene non ha più a dire nulla vediamo questo che sta provando ora un po' il primo è Uldukun Remo II cavallo esperto ma è uno dei più anziani del circuito ecco là che sta provando Gianni Punti l'altro ragazzo sta crescendo con Giuseppe Zeddi ora comincia a avere foglia di mettersi in mostra anche lui devo stare attenti per le curve che vanno a passo devono sempre dare la precedenza questo è ancora primo secondo prendiamo Antuosco che va verso la Curvara con Mannucci che fa piano però cavallo nuovo quindi lo provo hanno fermato praticamente tutti e credo che possiamo terminare anche noi la diretta bene prima batteria prima batteria prima batteria prima batteria prima batteria prima batteria prima batteria